Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Nell'ultimo giorno di mercato il Pescara di Colombo fa il colpo e formalizza l'acquisto di un numero uno del centrocampo per la serie C Luca Palmiero, già biancazzurro nella stagione 2019-2020 con Zauri che in queste immagini vediamo andare a segno con il Pordenone in uno dei momenti migliori di un'annata con luci ed ombre nella quale comunque Palmiero è riuscito a fare la differenza anche in B nelle partite giocate. E' arrivato il play che mancava dopo qualche defezione importante che aveva sconvolto i piani dell'Icari e del presidente Sebastiani, risolto con un arrivo che mette ordine nel reparto nevralgico della squadra con un pezzo forte in B nelle ultime quattro stagioni con Cosenza, Pescara e Chievo, contratto di due anni per il 26enne ex Napoli che ha risolto il contratto che lo legava ai partenopei con un biennale. Già al lavoro il nuovo regista del Pescara che domenica sera sarà in campo con l'Avellino alle 20 e 30 all'Adriatico. Un arrivo last minute, quello di Palmiero che si aggiunge a quelli dell'ex Ascoli, tutta per l'attacco e dell'altro ex Riccardo Brosco già protagonista con Zeman nella stagione 2011-2012 in difesa. Per un difensore che arriva un altro che va via con il promettente 19enne Davide Veroli a Cagliari in via definitiva con contratto di quattro anni e il 50% al Pescara in caso di futura rivendita da parte del club Sardo. Sarà quindi un Pescara più competitivo, quello che domenica sera affronterà nella prima all'Adriatico del Girone C, Lavellino con Brosco e Palmiero molto probabilmente già titolari e pronti a dare il contributo di esperienza ad una squadra fino alla scorsa settimana ancora incompleta.